Cordiale buongiorno dalla redazione di Muoversi in Toscana Info, dallo studio vi parla Andrea Biagioni. In A15 persistono i 9 km di coda a causa del traffico intenso tra Hull e l'allacciamento con l'A12 in direzione alla Spezia. In A1 invece si segnalano 2 km di coda a causa di un incidente tra il Bivio A1 Firenze Nord e il Bivio A1 variante del Valico in direzione Bologna. Coda è in uscita anche in Val di Chiana provenendo da Roma a causa del traffico intenso e sempre a causa del traffico intenso rallentamenti tra Calenzano Sesso Fiorentino e il Bivio con la variante in direzione Bologna e tra Barberino del Mugello e Calenzano in direzione Firenze. Coda a tratti anche tra Pistoia e Lucca Esti in A11 in direzione Pisa e in Fipi Litra e in Poliovest e Gello in direzione Livorno. Muoversi in Toscana Info, servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!